Da mia poco, ho sentito un insulto e ho reagito, è molto molto semplice. Poi è normale dopo le partite così tese, siamo uomini di sport, pieni di adrenalina e a volte reagisci in modo impulsivo, però è stato così. Io avevo la sensazione a un certo punto che potevamo fare di più, però pensando alla giovane età, da dove arrivano, faccio grandi complimenti ai miei giocatori, ai miei ragazzi, perché penso che sono andati oltre le loro possibilità e hanno fatto una grande partita e sono straccotento anche con un punto. C'erano l'anno scorso belle serate, secondo me l'anno scorso c'erano momenti dove dominavamo in assoluto. Questa partita, secondo me, grandi complimenti ai ragazzi, perché giocare 2000, 2001, 2001, cioè che prima volta giocano così, hanno dato tutto, non hanno molato niente. Grandi complimenti ai ragazzi, però ci sono state anno scorso le serate, diciamo, bellissime. Spero che non si è fatto male, perché uno che non fa gol da due anni, poi fa due in poche partite, uno alla Juve così, che ti cresce l'autostima, che è quello che manca a questo ragazzo, è peccato perderlo in questo momento. Spero che non sia niente di grave, che recupera presto, perché avremo bisogno di tutti. In fase di costruzione, mi sembra che ancora in fase di costruzione, penso che anche sia normale quando arriva l'enatore nuovo. E per cui. Che.